Le Repubbliche Marinare, il potere del mare Le Repubbliche Marinare furono delle città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica. Le più famose e importanti furono Amalfi, Pisa, Genova e Venezia, che dominarono sul Mediterraneo principalmente tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo. Le Origini Le Repubbliche Marinare nacquero in un contesto storico in cui il Mediterraneo era un mare aperto al commercio e, alla cultura. I commercianti italiani erano alla ricerca di nuove rotte e di nuovi mercati, e le città portuali erano le più adatte a soddisfare queste esigenze. Amalfi fu la prima Repubblica Marinara a nascere, nel IX secolo. La sua posizione strategica, sulla costa amalfitana, le permise di controllare le rotte commerciali tra l'Europa e il Medio Oriente. Pisa, Genova e Venezia seguirono a ruota, e nel corso del XII secolo si affermarono come le principali potenze marittime del Mediterraneo. La prosperità La prosperità delle Repubbliche Marinare era basata sul commercio. I mercanti importavano e esportavano merci di ogni tipo, dalle spezie ai tessuti, dai metalli ai prodotti agricoli. Le Repubbliche Marinare fondarono anche delle colonie in tutto il Mediterraneo, che servivano a controllare le rotte commerciali e a espandere il loro potere. La ricchezza delle Repubbliche Marinare permise loro di investire in cultura e architettura. Le città furono ricche di monumenti, chiese, ospedali e scuole. Le Repubbliche Marinare furono anche dei centri importanti di produzione artistica, e le loro opere d'arte sono ancora oggi ammirate in tutto il mondo. Il declino Il declino delle Repubbliche Marinare iniziò nel XIV secolo. La crescita del potere degli stati nazionali, come la Francia e la Spagna, minò la loro indipendenza. Inoltre, le guerre tra le diverse Repubbliche Marinare portarono a un declino della loro potenza militare. Nel XV secolo, le Repubbliche Marinare erano ormai ridotte a semplici città-stato. Venezia continuò a prosperare per alcuni secoli, ma le altre tre Repubbliche Marinare persero progressivamente la loro importanza. L'eredità Le Repubbliche Marinare hanno lasciato un'eredità importante nella storia italiana e europea. Sono state dei centri di cultura e commercio, e hanno contribuito alla diffusione della civiltà occidentale. Le loro opere d'arte e i loro monumenti sono ancora oggi fonte di ammirazione e di ispirazione. Le Repubbliche Marinare oggi Le Repubbliche Marinare sono ancora oggi presenti nella coscienza collettiva degli italiani. Il Palio delle Repubbliche Marinare, che si svolge ogni anno a Pisa, è un evento che celebra la loro storia e la loro tradizione. Le Repubbliche Marinare hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Sono state delle città cosmopolite e innovative, che hanno contribuito alla diffusione della cultura e del commercio. La loro eredità è ancora oggi viva, e continua a ispirare le persone di tutto il mondo.